Non è la EZELCA, è il tumore al seno. Ma siamo già sui titoli? Porteremo qualcosa a casa, è la promessa con cui Obama ha accolto Mario Monti a Camp David prima di aprire il G8. Dal vertice si spera che esca un documento comune che punti sulla crescita, così come è stabilito col neopresidente francese Hollande. Intanto diventa un giallo il presunto piano B dell'Unione sull'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Corrado Passer annuncia un piano di opere pubbliche da 100 milioni di euro, così si possono creare 400 mila posti di lavoro entro il 2015, aggiunge il ministro per lo sviluppo. Per la prima volta però finiscono in cassa integrazione anche gli impiegati della Fiat Mirafiori. Il governo assicura ai sindaci sull'Imo, il gettito sarà di 21 miliardi. Monsignor Pietro Vergari è indagato per il rapimento e la morte di Manuela Orlandi. Nel 1983 era al parroco di Santa Polinare la chiesa romana dove poi fu sepolto il boss della Magliana De Pedis. Un atto dovuto, precisa la procura, intanto su ordine del Papa, il Vaticano collabora con la polizia. Stasera a Monaco di Baviera la finalissima di Champions League. Il Bayern affronta in casa gli inglesi del Chelsea. Molte le assente eccellenti in entrambe le squadre. I tedeschi sono favoriti ma di Matteo, tecnico italo-svizzero, dei blues e ottimista però dice possiamo farcela. 7.7.28 in questo momento, una buona giornata dalla redazione del telegiornale. Andiamo subito negli Stati Uniti a Camp David alle due ora italiana. Sono iniziati i lavori del G8, prima una serie di incontri preliminari di cui ovviamente vi daremo conto e tutta una serie di questioni che diciamo così hanno complicato un po' la giornata e che hanno tutte a che vedere con la situazione greca perché comunque è di crisi ed è di Grecia che si parla evidentemente fra gli otto grandi perché il vero problema è appunto quello di come evitare il perdurare e il diffondersi di questa crisi. Dicevo, le questioni gialle sono quelle che riguardano un presunto referendum che i greci dicono che la Merkel avrebbe in qualche modo sollecitato e invece Berlino smentisce e poi ancora la possibilità che l'Europa stia pensando a un piano B proprio per la Grecia per pensare quindi all'uscita della Grecia dall'euro e che viene ancora una volta ufficialmente smentito a più livelli ancora fino a tardanotte. Poi invece i lavori del G8. Tocca a Mario Monti, fra poco lui aprirà la sessione e nel discorso che farà chiederà proprio esplicitamente che venga scorporata la spesa corrente dagli investimenti che riguardano la crescita in modo da poter avere un bilancio più accettabile. Questa è la sua proposta, vedremo quale sarà la risposta dei grandi. Crescita è la parola d'ordine anche a Camp David. Tutti d'accordo, i leader del G8 al vertice statunitense, cravatta a parte. Avevamo detto senza, ha scherzato il padrone di casa ricevendo Hollande per la cena. Per il resto tra Barack Obama e il neopresidente socialista francese il feeling, quasi un asse franco-americano, appare solido. Senza un piano che riporti l'economia occidentale sulla via dello sviluppo, il rigore dei conti resta fine a se stesso. La formula è ormai ripetuta da tutti i big in ogni occasione e con un approccio responsabile e un'agenda forte, così all'unisono Parigi e Washington, si punta oggi a definire un documento finale conclusivo approvato all'unanimità che ponga l'accento sullo sforzo comune Europa-Stati Uniti per combattere la recessione globale e sostenere la ripresa ancora troppo debole. Lo scoglio è lei la paladina dell'austerity innanzitutto e non a caso Obama ad Angela Merkel ha riservato un extra nell'accoglienza sfoggiando un bacio affettoso. Vedremo se servirà da ammorbidire la cancelliera sempre più isolata sulle posizioni rigoriste. Resta il fatto che le questioni da affrontare sono pesanti in testa alla sempre più concreta ipotesi dell'uscita della Grecia dalla moneta unica e la possibilità della crisi nel resto dell'eurozona, a cominciare dalla Spagna. Passare dalle parole ai fatti non sarà facile, visto che a complicare il contesto da Bruxelles ieri arrivavano voci poi smentite di una sorta di piano B stilato da Commissione Europea IBC per simulare un ritorno di Atene alla Dracma senza il temuto effetto domino sui restanti paesi dell'Unione. Anche il Fondo Monetario Internazionale da qualche giorno ha cominciato a parlarne come opzione da considerare. E poi c'è il giallo tutto tedesco di ieri, anche se il governo di Berlino ha smentito che Angela Merkel abbia proposto al presidente Grecos Papulias di indire un referendum sulla permanenza del paese nell'euro in concomitanza con le prossime elezioni del 17 giugno. E allora intanto i lavori si concluderanno oggi, poi lo sapete domani e dopodomani invece il vertice è nato e intanto noi invece torniamo ad occuparci delle questioni di casa nostra, in particolare appunto rimaniamo a parlare di crescita perché a questo proposito il ministro per le infrastrutture Corrado Passera ieri ha fatto un annuncio importante, ha detto che ci sono almeno 100 miliardi di euro per le infrastrutture, il che significa apertura di una serie di cantieri da qui al 2015 con fondi pubblici, privati e comunitari che dovrebbero portare addirittura a un aumento di 5 o 6 punti delle PIL e soprattutto a 400 mila nuovi posti di lavoro. Quando parliamo di cantieri parliamo ad esempio della metropolitana di Roma o della statale 106 Ionica ad esempio. Poi il governo sempre ieri ha tentato di rassicurare i sindaci preoccupatissimi per le stime del gettito dell'Imo, il governo ha detto che si attesterà sui 21 miliardi di euro e quindi non saranno necessarie né nuove tasse né aumentarle. Invece queste sono le rassicurazioni, poi c'è la realtà invece. La realtà è che l'Istat ci dice che intanto in 4 anni è stato perso un milione di posti di lavoro e poi la Fiat, la Fiat che è un po' una cartina del tornasole, un esempio per il nostro paese metterà in casa integrazione per una settimana, non sembra tanto ma in realtà è tantissimo, è importante lo stabilimento di Mirafiori, tutto lo stabilimento di Mirafiori che significa per la prima volta anche i colletti bianchi. Per la disoccupazione e allarme rosso, secondo l'Istat negli ultimi 4 anni sono un milione gli italiani che tra il 2007 e il 2011 hanno perso il lavoro, una cifra spaventosa che è compensata solo in parte dal fatto che nello stesso periodo 750.000 lavoratori stranieri hanno invece trovato un impiego, il che significa comunque che c'è stato un calo di occupati di 250.000 unità. E se c'è un'azienda passata quasi come simbolo di quelle colpite dalla crisi, peraltro in un settore termometro come quello dell'auto è la Fiat e oggi si scopre che per la prima volta tutti i 5.400 dipendenti degli enti centrali di Mirafiori, la maggior parte impiegati, andranno in cassa integrazione ordinaria contemporaneamente sei giorni tra giugno e luglio. Del resto i dati sul fatturato dell'industria parlano chiaro, i dati di marzo rispetto all'anno passato segnalano un calo del 3,1% soprattutto per colpa del crollo sul mercato interno. E se questo è il presente e il futuro non sembra migliore, nell'industria a marzo gli ordinativi sono in aumento del 3,5% su base mensile, ma sono in calo vertiginoso di oltre il 14% rispetto all'anno scorso. Intanto la maggioranza invece è alle prese con la questione della legge sulla corruzione, legge che continua a far litigare e dividere pesantemente. E' sempre la giustizia a dividere i partiti della maggioranza che sostiene il governo Monti, in particolare il disegno di legge anticorruzione su cui giovedì si è consumato un pesante strappo tra PDL, PD e Udc. I democratici invitano gli azzurri a smetterla con l'ostruzionismo e il popolo della libertà risponde accusando il Partito Democratico di voler mettere a rischio l'esecutivo, i centristi invece cercano l'equidistanza. Il prossimo appuntamento parlamentare è fissato per martedì prossimo in Commissione di Giustizia alla Camera, intanto i toni salgono anche per effetto degli ultimi fuochi della campagna elettorale per i ballottaggi di domenica e lunedì. Il Presidente della Camera Fini chiede a tutte le forze politiche di approvare al più presto un provvedimento così significativo come il TDL contro la corruzione. Siamo uno dei pochi paesi europei, spiega, non aver ratificato la Convenzione di Strasburgo. Ma a cercare di mediare tra i partiti è anche il Ministro della Giustizia. Infatti dopo le polemiche dei due giorni fa provocate dall'approvazione di un emendamento PD, votato anche da Italia dei Valori a Udc, che ha innalzato le pene, e guarda sigilli Paola Severino, lavora per riprogrammare un'apposita riunione di maggioranza saltata per lo scontro in Commissione. L'obiettivo del Ministro è far sedere attorno a un tavolo i tre partiti prima di martedì e trovare soluzioni di compromesso sulla genericità del falso in bilancio, l'aumento delle pene per una serie di reati di corruzione e il traffico di influenze che riguarda sia la pratica di raccomandazioni, sia attività lobistiche, sulle quali non si è ancora pronunciato nessun altro Parlamento europeo. Di tutta la questione giustizia, Severino ha parlato anche con il Capo dello Stato, tra i temi affrontati anche l'emergenza carcere, la sostituzione del sottosegretario Zoppini, dimessosi perché indagato di frode fiscale. E poi c'è l'appuntamento elettorale, fra domenica, quindi domani e lunedì, 4 milioni e mezzo di cittadini sono chiamati a tornare alle urne, e fra l'altro lo ricordiamo che può votare anche chi al primo turno non aveva espresso la propria preferenza. Si vota in 118 comuni, 19 sono i capoluoghi di provincia, ci sono alcune sfide particolarmente interessanti, come quella di Palermo, appunto, oppure quella di Genova, o quella di Parma, Parma città, per esempio, che i grillini avevano definito la nostra Stalingrado, e quindi vediamo appunto come si concluderà, sarà davvero un appuntamento interessante. Quello che invece adesso affrontiamo sono le questioni giudiziarie, quelle di Silvio Berlusconi, che esce indenne dal processo Mediatrade, lo dice la Cassazione, non ha commesso il fatto e dunque è prosciolto. Ricorso rigettato, Berlusconi, prosciolto, si chiude con la frase per non aver commesso il fatto una parte del processo Mediatrade, quella che vedeva l'ex premier accusato di frode fiscali e appropriazione in debita per la presunta compravendita a prezzi gonfiati di diritti TV dalle major americane da parte del gruppo Mediaset. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Milano che sosteneva il suo coinvolgimento e ha accolto la decisione del giudice per l'udienza preliminare Maria Vicidomini. Il 18 novembre scorso il GUP scriveva è inutile procedere nel dibattimento nei confronti dell'imputato Silvio Berlusconi perché gli elementi prospettati dal PM non sono suscettibili di un'evoluzione favorevole alla tesi accusatoria. Per il giudice, in sostanza, sentiti i testimoni, non si poteva provare che Berlusconi avesse avuto un ruolo nella compravendita a sovrapprezzo di diritti televisivi, soldi che sarebbero serviti a Mediaset, secondo i PM, per generare fondi neri e frodare il fisco. Scagionato Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio e fedele Confalonieri erano stati però comunque rinviati a giudizio per lo stesso reato assieme ad altri 11 coinputati. Il processo andrà dunque avanti ma ulteriormente depotenziato perché ieri la Cassazione ha confermato la prescrizione per il reato di appropriazione in debita, almeno fino al 22 febbraio 2004, nei confronti di quattro coinputati, tra cui Frenca Grama, considerato da IPM socio occulto di Berlusconi. Invece Umberto Bossi, che lo ricordiamo comunque, è sotto inchiesta, ha fatto le prime ammissioni, le ha fatte direttamente a Roberto Maroni, a quelli che erano nella sede della Lega ieri a Via Bellario a Milano, ammissioni sui soldi che sono stati spesi per i suoi figli, ha detto io molte spese le ho autorizzate, forse non sapevo esattamente per che cosa servissero, ma insomma le prime ammissioni sono arrivate. Ieri il faccia a faccia con il leader del carroccio, le prime ammissioni, stasera l'incontro con la base, il primo dopo l'avviso di garanzia ricevuto per la gestione dei fondi del partito. E dal 4 maggio scorso che Umberto Bossi non si fa vedere in pubblico, l'appuntamento è per stasera all'ESA, provincia di Novara, è lì che il senatur, che chi lo ha incontrato in questi giorni descrive come disorientato, potrà sondare gli umori del popolo legaglista e parlare alla sua gente. In un vertice ieri pomeriggio in Via Bellerio, con Maroni e gli altri due triunvi, Ribossi ha ammesso qualcosa, autorizza io alcune spese per i miei figli, ha detto, Ma quali spese? Per esempio le gare di rally del figlio Riccardo e altre spese di Renzo, ma ha anche ripetuto di aver creduto ai resoconti presentati dai suoi ragazzi. Maroni e gli altri, però, gli avrebbero fatto capire che i figli si sarebbero approfittati della situazione. Per il trota, l'ex ministro dell'Interno pensa all'espulsione dal partito, così come è toccato in sorte a Rosi Mauro, che ieri sera è tornata a parlare di queste vicende. Non credo a Maroni perché è un eterno secondo, ha detto la Mauro. Bossi ha sbagliato a dimettersi, la Lega è morta. A distanza è arrivata la risposta. Esiste come? Continuerà a esistere e diventerà... Non esiste più quella Lega lì, quella che frequentava lei probabilmente, certo. Per fortuna, dico. In serata è anche trapelata l'indiscrezione sulla possibile decisione del capo di lasciare il movimento. Non so se è vero, non mi interessano queste cose, ha tagliato corto Roberto Maroni. Grazie, Bobo, di essere qua. C'è invece un partito che davvero non esiste più, è la Margherita, ma il suo ex tesoriere Luigi Lusi continua a raccontare, a fare nomi di esponenti di quel partito a cui avrebbe elargito soldi, fondi pubblici, appunto del rimborso elettorale ai partiti e si cercano a questo punto però riscontri alle sue affermazioni. L'accusa Luigi Lusi l'ha depositata insieme alla sua memoria a disposizione della Giunta per l'Immunità del Senato durante la sua audizione mercoledì scorso. Secondo l'ex tesoriere su cui pende una richiesta di arresto per appropriazione in debita e associazione a delinquere, i magistrati romani non avrebbero verbalizzato le sue dichiarazioni in procura nei confronti degli ex vertici della Margherita, quei nomi e quelle cifre che Lusi ha fatto in Senato provocando una nuova valanga di reazioni indignate nei suoi confronti. I magistrati romani, pur senza farsi condizionare troppo dalle mosse di Lusi, adesso vogliono il resoconto di quell'audizione, un passaggio necessario per poter affidare alla Guardia di Finanza le deleghe per gli accertamenti del caso. Il Presidente del Senato Schifani ha già trasmesso la richiesta della Procura, non c'è però un resoconto stenografico di quanto detto da Lusi, quindi se la Giunta darà il via libera, i magistrati potranno avere a disposizione una sintesi. Poi potrebbero partire le verifiche sui versamenti ventilati da Lusi. Matteo Renzi, chiamato in causa dall'ex tesoriere, ha già reso noti i nomi dei 73 finanziatori della sua campagna elettorale, invitando i tesorieri di tutti i partiti a mettere online le spese sostenute con il finanziamento pubblico. Gli ha risposto il tesoriere del PD Misiani, i bilanci del PD a cui Renzi è iscritto sono online dalla sua fondazione. I dirigenti della Margherita, chiamati in causa da Lusi intanto, sono pronti a un'azione collettiva nei suoi confronti. Rutelli potrebbe andare in procura già lunedì. Mercoledì l'ex tesoriere tornerà in giunta. Il presidente Follini sembra intenzionato a proporre sedute a porte aperte per evitare nuove fughe di notizie. Andiamo invece in India, perché il tribunale di Collam deciderà fra poco della eventuale libertà su cauzione per i due fucilieri di San Marco italiani, che però quasi sicuramente non sarà né concessa né alla fine possibile. Quello che pesa sono le accuse pesantissime che sono state formalizzate ieri e che hanno fra l'altro scatenato come è comprensibile una reazione decisamente dura da parte del governo. Rinvio a giudizio per aver ucciso in acque internazionali due pescatori. E' questa l'accusa che è stata consegnata ieri al giudice del tribunale di Collam un dossier di 196 pagine con l'aperizia balistica e l'elenco delle imputazioni. Quattro le violazioni al codice indiano a carico dei fanti di Marina. Omicidio, tentato omicidio, azioni che hanno comportato danni e associazioni a delinquere. Nelle dossier ci sarebbe anche l'esatta localizzazione del luogo dell'azione avvenuta secondo gli inquirenti entro le 22 miglia che garantiscono ad uno Stato il diritto di controllo sulle navi in transito. Dopo tre mesi di indagini, il termine massimo concesso per la carcerazione preventiva, dunque le autorità di Nuova Delhi rompono gli indugi e puntano il dito contro Massimiliano La Torre e Salvatore Girone accusandoli apertamente di avere sparato per uccidere. Una decisione che ha colto di sorpresa la nostra diplomazia. La farnesina che aveva inviato proprio ieri in India, il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura, ha richiamato in Italia per consultazioni con il governo il nostro ambasciatore, Giacomo Sanfelice. Amareggiati ma non sorpresi dalla decisione indiana ai familiari dei due militari. Sapevamo che allo scadere della carcerazione preventiva dovevano arrivare i capi di imputazione, ma quello che chiediamo al governo è di cominciare a battere pugni sul tavolo, perché Massimiliano e Salvatore non sono criminali, ma militari e cittadini italiani. In Italia, torniamo in Italia, cinque giorni fa aveva fatto evidentemente molto scalpore la decisione, la riapertura della tomba di Enrico De Pedis, Renatino, il boss della Banda della Magliana, nella Basilica di Santa Pollinare. Ebbene, è arrivata un'indagine a carico di Monsignor Pietro Vergari che ha 76 anni e che ormai è in pensione, ma all'epoca fu colui che in qualche modo avvallò e spinse per la decisione di seppellire De Pedis proprio in quella prestigiosissima Basilica. L'ex rettore della Basilica di Santa Pollinare, Don Pietro Vergari, è indagato per la scomparsa di Emanuela Orlandi. L'alto prelato è accusato dalla Procura di Roma di concorso nel sequestro di persona aggravato dalla minoretà e dalla morte dell'ostaggio. Nella cripta di Santa Pollinare è stato sepolto per anni il boss della Banda della Magliana, Enrico De Pedis. Lunedì scorso è stata aperta e sottoposta a indagine dagli esperti della scientifica la tomba di De Pedis e la salma traslata al verano. Per trovare la soluzione del caso andate a vedere chi è sepolto nella cripta e del favore che fece Renatino al Cardinal Poletti, disse al telefono uno sconosciuto alla trasmissione Rai chi l'ha visto. De Pedis fu ucciso il 2 febbraio del 90 a Campo dei Fiori durante un regolamento di conti. Fu proprio l'allora arcivescovo vicario di Roma, Ugo Poletti, a dare il via libera alla sepoltura nella Basilica Romana. Dopo una richiesta dei familiari del boss è tenuto conto della dichiarazione di Monsignor Vergari che definiva De Pedis un grande benefattore dei poveri. Lo stesso Vergari sul suo sito così descriveva i rapporti con De Pedis. Ci siamo visti più volte, aveva il passaporto, poteva liberamente andare all'estero. Più volte mi ha aiutato a preparare le mense per i poveri. La borsa, anche ieri i mercati finanziari hanno subito pesanti perdite, mentre invece può dirsi tutto sommato abbastanza soddisfatto Mark Zuckerberg per il debutto delle azioni Facebook sul listino del Nasdaq, il listino tecnologico di Wall Street. Le azioni erano quotate 38 dollari l'una e pochi minuti dopo l'apertura delle contrattazioni sono schizzate in su di altri 5 dollari. Poi in realtà c'è stato un assestamento, ma insomma forse ci si aspettava di più. L'importante però è che l'entrata di Facebook sul Nasdaq ha provocato un certo movimento sul listino come non si vedeva da tempo. Adesso parliamo di calcio, parliamo di una finale importante che si gioca questa sera, Champions League Bayern Monaco contro Chelsea. È la sera della partita che vale una stagione, anzi una carriera nel caso dei due allenatori, il tedesco Heinkes e l'italo-svizzero, ma inglese di adozione Roberto Di Matteo. Per loro già essere in lizza per la Coppa è un punto d'arrivo. Appena un mese fa Bayern Monaco e Chelsea si erano trovate sul cammino le corazzate Real Madrid e Barcellona. Poi il calcio ha fornito un'altra delle sue proverbiali sorprese. Ed eccoli stasera il tedesco di ferro è l'uomo venuto da Schaffusa, la cittadina svizzera famosa per le cascate del Reno. Per Heinkes, che dovrà fare i salti mortali per sostituire Alaba, Luis Gustavo e Batestuber squalificati, l'obiettivo è anche entrare nella leggenda per aver portato la Coppa in due diverse bacheche. Nel 98 era quella del Real Madrid, stavolta potrebbe essere quella del Bayern. A sbarrargli la strada proverà Roberto Di Matteo, sangue italiano nelle vene, spinto dagli oltre 20.000 tifosi del Chelsea, arrivati in Germania per la sfida delle sfide. Anche per i Blues ci saranno assenze pesantissime, a cominciare dall'idolo di Stanford Bridge, John Terry. Ma appena poche settimane fa, nel mezzo della tempesta, Village Boas, arrivare all'Allianz Arena per giocare alla finale era niente più di un sogno. Di Matteo è riuscito nel miracolo, adesso non si pone più limiti. Abbiamo, dice, tutte le carte in regola per vincere. E poi, sul suo futuro, c'è il suo no e ancora nebbia fitta. 7.48 in questo momento. È giusto il tempo di dare la linea alla pubblicità. Poi Mauro Giuliacci per sapere che tempo farà nei prossimi giorni. Omnibus, invece, questa mattina è condotto da Alessandra Sardoni, alla quale poi passeremo la linea. Io vi aspetto, se volete, domani mattina. Intanto passate una buona giornata. Grazie.